Il Nero Cup rispetto alla Pro A perde la palla, situazioni 3 contro 1 e un giochetto per Caleb Green. Scrive i primi due punti, salti 24 secondi per la formazione, subito pallone per Omar Thomas in reverse. Due punti molto importanti per il giocatore. C'è una situazione con le ripescate di Rolega, quindi non possiamo proprio dirlo con precisione. Mentre ancora un anno ed è, ha fatto 28, mentre Drew Gordon, schiaccione, due punti anche per lui contro la Dinamo. Cristian Monsho, che prima di sedere sulla panchina... ...è fatto da Drake Diner, che ha concesso il non aiuto per Drew Gordon. 31 per la precisione, i punti di Gray, mentre dall'altra parte entra anche in partita. Ma ora è delle planche di Drew Gordon, il dominatore in questi primi minuti della gara. C'è da dire che è il miglior lungo, ma che gioco, che cos'è questo uno contro uno di Drake Diner. In campo, sul terreno di gioco, Travis Diner, bellissimo il pallone per Omar Thomas. Dai Omar! Così, 7 punti per lui. Omar Thomas, Brian Sacchetti, che penetra ancora palla per Omar Thomas. E quindi torniamo alla palla 2 anche nei campionati nazionali. Dall'altra parte, subito, Drake Diner. Però la risposta non è stata quella che si è avuta a Sassari. Vediamo Marquis, che prova a partecipare alla festa. Ha giocato addirittura, mentre vediamo l'entrata di Drew Gordon. Assolutamente immarcabile. Ha tentato un anticipo, ha tentato di rubare una palla. Non è andato bene, il suo difensore si è trovato solo i tre punti che ha fatto Canessa. Attenzione, può rispondere! Grandissima bomba di Brian Sacchetti. ...con il numero 11, l'abbiamo riconosciuto. E lui ancora a Marquis. Pallone per Travis. E va, va anche Travis. Non è che... Che palla, Travis Diner. Soprattutto perché... Oh, che cosa ha fatto Marquis? 3 contro 1. Forza! Eccolo lì. Stanno dicendo... ...di specializzazione. Bravissima ancora. Caleb Green, un maestro per quanto riguarda la difesa. E Omar Thomas. Il lay-up che porta abbastanza inusuale l'errore. Accensione. Sbaglia il secondo tiro libero. Ancora Omar Thomas. Dai Drake! Punisci così. Drake Diner. Cora Caleb Green. Gioca 1 contro 1 su Gray. Semigancio di Caleb Green. Molto caldo di Drew Gordon che rolla dentro. Non riceve. Riceve invece Caleb. Ma che pallone! Ma che pallone! Un errore da Marquis Green. Ancora sfera. Bravissimo! Caleb! Recupera la palla a Dinamo. Ancora Drake. Da fuori Drake! Drake colpisce. Pallone per Caleb Green. Che signora palla per Drake. Bellissimo. Implacabile. Dai 6,75. Ma Drake. Drake Diner e Omar Thomas. I cinque schierati da Coach Mayo. Da casa sua! Drake Diner. Drake Diner, 19. Il suo uomo. E qua allora ci penserà Travis con questo step back che con l'aiuto del ferro va dentro. Questo giocatore, ricordiamo, 27 punti per lui. 27 punti. Arresta e tiro di Brian Sacchetti. Una sentenza. Oggi il giocatore Boccolò prova ad attaccare. Marchese mette la mano. Ancora il contropiede. Può appoggiare tranquillamente al vetro Omar Thomas. 20 per lui. La Dinamo. L'uno contro uno. La palla come vediamo a Calibri che è un po' spasso. Eccolo lì. E' un 2 più 1 importante. Giocare. 90 pari. 1,37. Vediamo questo tiro. 29 secondi. Palla per Omar Thomas. Gioca uno contro uno. Sogrey. Layup di Omar Thomas. Più uno per la Dinamo. Anche il numero 8, Juby Johnson. Palla due. Vediamo. La palla e vince la Dinamo. Vince la Dinamo. 95 a 94. Che bella vittoria. La Dinamo ancora vive nel Rock Up. La Dinamo ancora vive Antonello.